Ciao a tutti, bentornati su Lissa ASMR Anche oggi, come tutti i giorni, nuovo video Oggi torno con un po' di tracing e inaudible su questa rivista che è da questa volta sapete che in collezione un'ottoriste e che in questo vi piace appunto sfogliarle leggere con voi magari i vari brand che vengono pubblicizzati su queste stesse riviste se questa ti piace di video o ti piace e comunque ti piace l'inaudible whispering io ti invito ad iscriverti al canale se ti fa piacere vorrei ringraziarvi perché siamo arrivati a 500 iscritti siete tantissimi e io appunto ho ringrazio a ciascuno di voi se poi vi vai a supportare il canale potete anche lasciare un like ed un commento e direi di iniziare subito possiamo iniziare direttamente dalla copertina allora che vorrei ringraziare un самой e poi facciamo il nascimento del mio camionello tra i calcoli e i calcoli la mia gatto grazie per la mia torre dalla destra tra i calcoli la mia ciotola la mia ciotola non ci ha detto la mia ciotola la mia ciotola la mia ciotola poi le mie ulteriori con le due potere c'è qualcosa che vuol città c'è qualcosa che si ripetete io vado a sbagliare gucci 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 long cheese no suc gucci 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 qua penso di aver giocato con le macchie ma perché mica pezzo? vorrei sentervi un'immagine c'è il cervezzo c'è il cervezzo c'è il cervezzo il cervezzo c'è 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 il cervezzo e il cervezzo il cervezzo esprime la tua creatività grazie alla traffería d'amore per la sua crescita per la sua jada la potenza della potenza di ricarica del 70% sulle 90 minuti ora continuiamo a procurare da soffrire in efecto la cucina di ricarica dal 70% IL LOPEL IL LAPTÓ IL LAPTÓ IL LAPTÓ IL LAPTÓ IL LAPTÓ IL LONER Abre mogli ��la mogli delle crescentate quelle fربما... un poveld L-O-M-G-l-P happily dire per adesso via il mondo con chistmas happiness via il mondo con chistmas happiness via il mondo con chistmas happiness in stax in stax in stax in stax quattro e per l'altro senti facciamo un po' di sapere sull'attore per l'altro di dente per l'altro di dente per proteggere verso quella direzione che è il primo e con l'altro ragazzo per l'altro di interpretazione ci troviamo davvero la mia tutto i veri corretti i tipi l'altro 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 per una vita complicata abbiamo un pubblico di conto con l'allegrazione di questa scoperta ci sono tipi di amante con l'olio 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 che non c'è un sogno come presenti alle foto che non possono essere ci amiche per camminare contraddittori, fidanzati e più sorprestiti un buon sogno ci qualcosa di nuovo, uno semplice assente, uno del cuore il buon contello, un conoscere opinione con l'esistenza un altro giorno, un buon contello di farle parte per il pentimento di questo domanda e lo secondo in particolare il secondo è un sogno che tu presenti la nuova per il secondo è un sogno di notte e le seconda corrette indipendibile disegnere o della simpeclica per causa della conclusione particolare cioè l'incendimento che per me deve essere svegliano Poi, se non è sempre ben raccettabile con i palmi venivano negativi dai valori ai psicologi, con interessa la possibilità che colirà nel modo dell'issenzione di sogno, non serve un disposto di rinforterle soccide e dei desideri un altro potrebbe risultarla con terreno e una paura con terreno di un gancio potrebbe essere una impressione mentre un altro potrebbe semplicemente riportare un ricordo sulle contrarie nell'incordo del disegno ho fatto questo, il fatto non si è un altro di una, fuori di con le notte a desiderio e facendo questo nome, che si può non dire direi in vera da alcuna paschera come il momento che mi sentite e ci si può verificare che le con le notte non sono un precollo e come sono un minuto, per esempio peggiorno che ho fatto tutto nel mio conto voglia per condire sperimentamente per il mio intervento, per il suo lanci, per il suo lanci si è molto difficile, per il mio conto voglia di direi in vera per i nostri, sulle notte non è per le sedi, per chi le ha con le partite spese per il tuo sogno sul tuo contenuto, c'è il tuo peggiorno Prima di domenica Questa dunque è la mia comunità, il mondo è un tipo di esposolta di sicurezza di risoluzione 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 di risoluzione. Il mondo è un tipo di esposolta di risoluzione di risoluzione di risoluzione. Il mondo è un tipo di esposolta di risoluzione di risoluzione di risoluzione di risoluzione di risoluzione. Il mondo è un tipo di esposolta di risoluzione di risoluzione di risoluzione di risoluzione di risoluzione di risoluzione. non deve essere particolarmente piacevole nella botella di casa credo la ponte e i figli di signor Bebby, ora di andare all'ospedale e il primo punto è che si diceva a Bebby, è il caso di medicina quando i 22 si diceva e si diceva che non c'era l'ospedale non c'erano i sogni e mi diceva che non c'era l'ospedale e in questo punto ha preso l'ultimo il suo sogno e in questo punto ha preso l'ultimo il sogno appena sono pazienti da tutto con una persona ab�ie la come se non fa fuori e volete ma non esce a portare giornalmente un apparecchio di origenanza sulla guaccia pensato che l'ultimo accettava via un giorno che bisogna accettarla per stare lunghi a parlare insalamente e non dobbiamo trovare la mente per fargli una mia famiglia ci intanto che l'ultimo trascendo per le soluzioni incontrata e non recettare la vita e non Including Lothari ecco così l'oggettivo, tra l'oggetto della povera sofferenza, non così congredi, sono le cose che portano le labbra della gente in situazione dicevoli. In tre patterni, il giorno delle grandi sondazioni di questa cosa dicevoli, la città della calma per le quali sono le cose che si rispondeva breve, ragioni vinti e freddi di poter confronto la mia conoscenza, la paga di licenziare, se potete un'altra tanto per scendere da quel caso, non è una contropreferenza o una ricorda, che conoscerebbe la visione, l'ha parlato solo e mi distruggono, Il soggetto? grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie 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 a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti 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 grazie grazie a tutti